Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video per chi non mi conoscesse, io sono Sara. Oggi sono qui per portarvi un vlog, il primo dopo tantissimo tantissimo tempo e mi era davvero mancato portare contenuti sul canale e soprattutto registrare video. Ho scelto di portarvi questo vlog oggi, in questa giornata piuttosto tranquilla, in quanto per me è un giorno molto importante perché è lo Star Wars Day, quindi buon 4 maggio, buon Star Wars Day, anche se voi ovviamente lo vedrete dopo, non so esattamente quando, quindi buon Star Wars Day in ritardo. E ho anche l'outfit a tema ovviamente, che è la mia maglietta preferita con la spada laser, vedete? E sì, sono molto emozionata, direi che si nota, io ho già parlato abbastanza, direi di iniziare subito con il video. Guardate chi è venuto a salutare, ciao Tito, buongiorno, buongiorno, ciao patato, ciao. Adesso sto andando da Lalla che si è trasferita qui insieme a Tito, Enea, Mia e Mignon, in quello che prima era il paddock di Belis, perché tanto adesso Belis è un cavallo da cortile, quindi Lalla si è trasferita qui. La prendiamo, la portiamo fuori a mangiare l'erba e oggi pomeriggio avrei in mente di montare. Tecnicamente non potrei, perché causo infortuni alla caviglia, sono ferma, o meglio, devo stare ferma, anche perché più la sforzo più mi fa male. In realtà ho provato a montare un po' di tempo fa, però mi faceva davvero troppo troppo male, quindi niente, sono obbligata a stare ferma finché non passo un po' il dolore. Però ho troppa troppa voglia di salire a cavallo. Ciao Lalla! Buongiorno! Per la prima volta nella storia del mio canale YouTube potete vedere Lalla e Tito vicini, più o meno, perché Lalla se ne sta andando. A Lalla non piace molto la compagnia degli altri cavalli, povero Tito. Mi hai trattato male, è molto antipatica questa, vero? Eh sì, si è antipatica Lalla. Io ci provo a farli diventare amici, ma Lalla proprio non ne vuole sapere. Che antipatica che sei! Io ci provo a farli diventare amici, ma Lalla proprio non ne vuole sapere. Io ci provo a farli diventare amici, ma Lalla proprio non ne vuole sapere. Grazie a tutti. 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 Minion. Ciao, mignon. Ciao, mignon. Come dico sempre, ci sono due tipi di cavalli al mondo, mignon e mignon. Grazie a tutti. Sono le 11.20, io sono appena tornata a casa. Ah, vedo, è arrivata Adele, così che si è infilata. Adele, aia, mi fai male. Oddio, ok, dopo questa, aia, Adele, niente, Adele ha deciso che deve essere presente nel video, cambiamo mano che è meglio. Quindi, dopo questa, dopo questa breve interruzione, direi che possiamo postare su Instagram le foto che ho fatto ieri, visto che, come vi ho detto, a inizio video, oddio, oddio. Adele ha deciso che deve essere presente anche lei nel vlog, quindi, direi che possiamo postare su Instagram le foto che ho fatto ieri, visto che, come vi ho detto inizio video, oggi è lo Star Wars Day. Io ne ho fatto alcune foto per il mio profilo di Instagram e è presente anche Adele perché, ovviamente, lei ha le smaglie di protagonismo. E, niente, quindi adesso postiamo le foto. E resta qui così. E ha bisogno di affetto. Adele, cosa fai? Poverina, poverina. Poverina, poverina, poverina. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.